La Ministra delle Politiche Agricole Teresa Bellanova in Puglia per una visita istituzionale nella provincia di Brindisi, diverse le aziende che ha visitato. Le importanti novità legate alla ripartenza del porto di Taranto vedono direttamente interessati gli operatori portuali. Abbiamo ascoltato il presidente degli agenti marittimi Marco Caffio. Nel corso del pomeriggio un vasto incendio ha bruciato, molti ettri di macchia mediterranea, sgomberate le abitazioni nelle vicinanze e i lidi sono stati evacuati. Le operazioni sono ancora in corso. Un ragazzo fasanese di 21 anni ha perso la vita domenica pomeriggio in un incidente stradale avvenuto alle porte di Alberobello. Il giovane ha perso il controllo della sua moto finesse in un terreno. Un gran lecce non va oltre lo 0-0 a Cagliari. Tante le occasioni da gol costruite dalla formazione di Liberani, tra cui il palo di Babacar. Il buon segnale però è arrivato dai zero gol incassati. La Virtus Trancavilla programma la nuova stagione e riparte dai giovani, mentre domani il brindisi incontrerà nuovamente i calciatori. Corsa contro il tempo per l'iscrizione al prossimo campionato. E benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione in diretta di Canale 85. Sono le 20.30 e iniziamo subito insieme con la pagina regionale. Misure restrittive prorogate fino al prossimo 31 dicembre e questa è la proposta contenuta nel prossimo decreto che è atteso per il 14 di questo mese per le novità in atto. Vediamo il servizio. Il 31 luglio è il termine al quale potranno essere prorogate le misure restrittive previste nel DPCM emanato l'11 giugno scorso. Domani si attende un ulteriore provvedimento diverso dalla proroga dello stato di emergenza sul quale è chiamato a decidere il governo. Stabilendo modalità e termini che si ipotizzano possano proseguire fino al 31 ottobre. Quello atteso entro martedì è un nuovo DPCM che in sostanza ribadisce alcune misure restrittive. In particolare il divieto di ingresso per chi nelle ultime due settimane ha soggiornato nei 13 paesi in cui l'indice di diffusione della pandemia è al di sotto dei parametri minimi di contenimento. Potrebbe essere previsto anche il rimpatrio immediato. In concreto fino al 31 luglio chiuse discoteche, fiere e congressi, cinema, teatri e auditorium continueranno ad avere posti a sedere preassegnati e distanziati rispettando la distanza di almeno un metro e con un massimo di mille spettatori per spettacoli all'aperto e 200 in luoghi chiusi. Resteranno in vigore tutti i protocolli di sicurezza, distanza interpersonale, obbligo della mascherina nei luoghi chiusi e accessibili al pubblico compresi i mezzi di trasporto. Bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie infine possono continuare a esercitare le loro attività a condizione che le regioni ne abbiano accertato la compatibilità con l'andamento della situazione epidemiologica. Cambio della guardia al vertice nazionale della FIM CISD. Roberto Benagli è stato letto segretario generale, sostituisce il dimissionario Marco Bentivogli. Roberto Benagli è il nuovo segretario generale della FIM CISD. Succede a Marco Bentivogli alla guida delle tute blu dell'organizzazione sindacale. Benagli è stato eletto oggi a Roma con larghissima maggioranza dal Consiglio generale della FIM CISD. Alla presenza della segretaria generale della CISD, Anna Maria Furlan, e del segretario aggiunto della CISD, Luigi Sbarra. Benagli, a 59 anni, sindacalista di lunga esperienza, arriva alla FIM dopo diversi incarichi territoriali e nazionali a partire dai primi anni 80. Contrattazione, innovazione nel campo del mercato del lavoro, della formazione continua, delle politiche attive, della welfare contratuale hanno rappresentato i maggiori ambiti di impegno della sua esperienza sindacale. Ecco le sue prime dichiarazioni da segretario. E soprattutto il mio primo pensiero va ai tanti attivisti, ai tanti delegati, ai tanti sindacalisti che ogni giorno nei luoghi di lavoro, nei territori, fanno della FIM CISD un grande sindacato. Questo è un impegno che voglio portare avanti assieme a voi, abbiamo una stagione importante sui temi del lavoro da sostenere. Stiamo vivendo una gravissima crisi occupazionale e industriale e il nostro impegno da subito è quello di lavorare per garantire tutela e tutela a tutti per evitare la perdita di posti di lavoro. Abbiamo bisogno non solo di prorogare ammortizzatori e blocco dei licenziamenti, ma di avere risposte e dialogo con il governo e le imprese per dare investimenti e per dare un futuro a questo Paese. I metalmeccanici hanno anche il rinnovo del contratto nazionale aperto. La mia visione e la visione della FIM CISD è che ci vuole più contrattazione e che la contrattazione non deve andare in cassa integrazione. Come in queste settimane, in questi mesi, i delegati e i sindacalisti sono stati utili per discutere di lavorare in sicurezza, per parlare di lavoro agile, per parlare nelle aziende, dobbiamo anche sul piano nazionale rilanciare fortemente la contrattazione. E adesso apriamo insieme la pagina provinciale di Taranto. La sicurezza stradale sulla Statale Cento e i progetti di ampliamento sono stati al centro questa mattina di un incontro convocato dal prefetto di Taranto, Demetrio Martino. Per il futuro si pensa ad una strada completamente a due corsie per ogni senso di marcia. L'orizzonte della Statale Cento è tracciato, una strada a due corsie per senso di marcia, come già viene nel tratto barese, anche nel segmento tarantino dell'arteria stradale con un finanziamento di 84 milioni di euro. Ma i tempi per la realizzazione non saranno brevi, siamo alla fase dei primi sopralluoghi e qui dovrà seguire la necessaria progettazione. La sicurezza della viabilità sulla Statale Cento è stata al centro stamattina di un vertice convocato dal prefetto di Taranto, Demetrio Martino, che ha visto la partecipazione dei sindaci dei comuni attraversati dalla Statale Cento, della rappresentante dell'ANAS, del presidente della provincia Giovanni Gugliotti, della dirigente della polizia stradale di Taranto Nicola Manzari, dei rappresentanti delle polizie locali e del presidente del comitato strade sicure, Vanni Caragnano. Ed è indispensabile una concertazione tra i diversi attori della questione, diciamo, quindi la provincia da un lato, la regione, l'ANAS, che è attore importante, e proprio con loro, con regione ed ANAS, noi siamo stati una quindicina di giorni fa a discutere di una pianificazione, quella di cui la provincia ha parlato in più circostanze, di una pianificazione che deve essere una pianificazione condivisa. Sì, la Statale Cento è un tema attenzionato anche dal nostro comune, anche se il problema poi sul comune di Palagiano si riverbera anche attraverso altre strade che si, il cui traffico si intensifica proprio per il traffico della Statale Cento. Per cui oggi qui in prefettura abbiamo la possibilità di porre all'attenzione una serie di temi e Palagiano importa in maniera molto più pregnante la necessità dell'apertura delle rampe autostradali di Palagiano e la sicurezza sulla Statale Sette. La nostra posizione è molto chiara e netta, cioè che sicuramente abbiamo accolto con favore la predisposizione quindi delle somme per completare l'allargamento da Gioia del Colle fino a San Basilio. Però noi ovviamente non ci accontentiamo perché è chiaro che l'attenzione deve essere sempre alta e dobbiamo cercare attraverso gli organi istituzionali della Regione Puglia, attraverso un'interlocuzione con l'ANAS, di continuare questo percorso perché dobbiamo assolutamente arrivare all'allargamento di tutta la Statale Cento anche nel tratto che riguarda San Basilio, quindi Mottola e poi che arriva fino a Massatra. Negli ultimi anni abbiamo visto un avvicendarsi di incidenti stradali gravi e gravissimi in considerazione soprattutto del fatto che quella strada è attraversata quotidianamente da 15.000 veicoli al giorno tra autovetture e mezzi pesanti. Questa è fonte ANAS dello scorso anno. Quindi abbiamo chiesto come mai l'ANAS ancora aspetta a dare date certe per l'ampliamento tra Gioio del Colle e San Basilio come era previsto nel piano regionale dei trasporti nonostante l'opera sia già in finanziamento per 84 milioni di euro. Le importanti novità legate alla ripartenza del porto di Taranto vedono direttamente interessati gli operatori portuali. Abbiamo ascoltato il presidente degli agenti marittimi, Marco Caffio. All'indomani dell'arrivo della prima nave FIDOR nel porto di Taranto è tempo di commenti e reazioni. Oggi abbiamo voluto raccogliere l'opinione di chi da tempo opera nel porto ionico per comprendere meglio quali saranno le reali ricadute per lo sviluppo dell'economia tarantina. Marco Caffio, presidente degli agenti marittimi portuali della provincia di Taranto. Siamo molto contenti della ripresa di un traffico che abbiamo dovuto purtroppo perdere 5 anni fa. Siamo molto soddisfatti della ripresa di un'attività che porta sicuramente reddito e lavoro agli operatori portuali tarantini. C'è però qualche preoccupazione anche all'orizzonte e alla luce di quello che è stato il passato. Cosa si dovrà verificare affinché non si commettano gli errori compiuti negli anni passati? Dovremmo operare come sistema porto, dovremmo fare tesoro degli errori del passato, vincere la competitività dei porti limitrofi che creano una grande concorrenza, deburocratizzare quanto più possibile le attività quotidiane, sempre con una grande attenzione alla sicurezza vanto del nostro porto storicamente e lavorare tutti insieme in un'unica direzione. Il suo messaggio al nuovo terminalista qual è? È un messaggio di innanzitutto ringraziamento per l'investimento effettuato, attenzione al cluster portuale, al sistema porto che prevede la presenza di numerevoli aziende con grandi capacità, certificazioni, capacità e grande supporto e possiamo già sentire il loro abbraccio per l'attenzione che sta rivolgendo al sistema portuale, per quelle che possono essere le attività a avvenire. Troveranno in noi una porta sempre aperta per lo sviluppo del sistema. Il Covid non rappresenta più un valido motivo di fermo, così ripartono le udienze per il maxiprocesso ambiente svenduto. Cinque prima delle pause estive e la prima proprio in questa settimana. Tre udienze per tre giorni. Con la ripresa, dopo quattro mesi e mezzo di ambiente svenduto, riparte la settimana a Taranto. Il maxiprocesso, lo ricordiamo, è chiamato a fare piena luce sul presunto disastro ambientale che sarebbe riconducibile all'exilva di Taranto. Altre due udienze sono state fissate per il 20 e il 21 luglio. Verranno ascoltati 20 testimoni, consulenti tecnici citati dalla difesa. Il calendario è stato ostilato dopo il rigetto delle richieste di rinvio presentate da alcuni difensori degli imputati provenienti dalle zone italiane maggiormente colpite, la Lombardia, nello specifico la Corte d'Assise. Infatti, presieduta dal giudice Stefania Del Rico, giudice Togato a Latere, Fulvia Misserini e sei giudici popolari, ha respinto le stanze di cinque avvocati che chiedevano il rinvio per ragioni legate alla provenienza geografica in merito al Covid-19. Tuttavia, la situazione epidemiologica in Italia è migliorata. Così, anche in virtù di questo, la vecchia Corte d'Appello di Paolo VI riaccoglie il processo su decisione del neopresidente del Tribunale di Taranto, Rosa Anna De Palo, il 30 giugno autorizzato la ripresa. Come è noto, 47 sono gli imputati al processo, di cui 44 persone fisiche, tre società, dai fratelli Riva ai massimi dirigenti dell'acciaieria, sino a personaggi politici di spicco dell'epoca come l'ex governatore di Puglia, Vendola. I commissari che gestiranno il PD Ionico tracciano le linee guida. La lista dei candidati per le prossime regionali è ancora tutta da definire. Il PD Ionico si riorganizza dopo le dimissioni di Giampiero Mancarelli, ora alla presidenza dell'AMIU. Il coordinamento provinciale di Terra Ionica del Partito Democratico riparte dai commissari. Conferenza stampa di Nicola Audati e Giovanni Chianese, con Antonella Vincente, il primo braccio destro di Zingaretti. Sono state illustrate le linee guida di questa fase commissariale. Un percorso politico, hanno detto i commissari, che dovrà traghettare il partito verso le prossime regionali. Cercheremo, hanno detto, di fare il massimo per rendere centrale la presenza del PD a Taranto come lo è a livello nazionale. Si parte dal punto di forza dettato dall'amicizia con l'amministrazione comunale. Il commissariamento è stato necessario perché il segretario provinciale si è dimesso, avendo ricevuto un incarico prestigioso di governo della città. Ma comunque era necessario ricostruire un clima, ricostruire il gruppo dirigente e anche dare una spinta nazionale su temi delicati per la città e per la provincia, in particolare quello dell'Ilva. Dunque la scelta del segretario nazionale è stata quella di chiedere appunto a me, come coordinatore della segreteria, Giovanni Chienesi, che è un membro della direzione, di lavorare in questi mesi per dare una spinta e risposte positive non solo per le elezioni regionali ma più complessive per l'assetto strategico di questa città. Io non ho visto questi manifesti e la lista non è stata ancora approvata, quindi chi ha fatto i manifesti ha sbagliato, perché bisogna prima fare la lista, rispettare gli organismi dirigenti, le procedure e poi dopo si fanno i manifesti elettorali. In ogni caso noi faremo la lista senza farci condizionare da questo, ma solo ed esclusivamente dal peso delle candidature, dalla forza che potranno esprimere, diciamo anche dal contributo che potranno portare alla vittoria elettorale in questa regione per Emiliano e per il centrosinistra e per il Partito Democratico. Quindi adesso nelle prossime ore ci metteremo al lavoro e faremo la migliore lista possibile tenendo conto della provincia, della città, dell'equilibrio di genere. Dal 15 luglio riaprono in presenza gli uffici comunali a Taranto. La decisione è stata presa dal sindaco Rinaldo Melucci con un'ordinanza, ma i sindacati non sono d'accordo. Il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci attraverso l'ordinanza 42 del 10 luglio scorso ha disposto alla riapertura in presenza di tutti gli uffici comunali affardata dal 15 luglio prossimo. La decisione è scaturita dalla necessità di garantire ai cittadini i servizi essenziali di prossimità, soprattutto nelle sedi periferiche circoscrizionali, garantendo il rigoroso rispetto delle norme anticontagio codificate anche in un apposito protocollo già diffuso tra i dipendenti. La riapertura avverrà con due settimane d'anticipo rispetto al termine dello stato d'emergenza deliberato dal Governo a fine gennaio, anche in virtù dell'ormai stabile trend cittadino dei contagi, azzerati da settimane dal complesso dispositivo di protezione e prevenzione messo in piedi in questi giorni dalle direzioni competenti. Tutte le sedi comunali, tutti gli uffici e ogni dipendente sono stati forniti dei dispositivi necessari, sottolinea Palazzo di Città, a svolgere le consuete attività di fronte e back office in totale sicurezza, dispenser di gel, igienizzante, termoscanner, guanti e mascherine, paratie in plexigas per le attività. Ma non la pensa così il segretario della FPCS di Taranto, Aldo Gemma, che ritiene quanto mai inappropriata la scelta di riaprire. Gli uffici, sostiene, non sono pronti ad accogliere il pubblico, non si dispone di pannelli parafiato per scrivanie che offrono protezione ai dipendenti e clienti, soprattutto in quelle direzioni dove il contatto con il cittadino è all'ordine del giorno, come nelle sedi circoscrizionali e presso gli uffici dei tributi. Addirittura, conclude Gemma, risulta che negli uffici in parola non sono stati ancora attivati gli sportelli per il front office. Tra cronache e vacanze, il giornalismo Mediaset Remo Croci ha ultimato proprio a Manduria il suo ultimo libro, Femmina. Vediamo il servizio. Femmina si chiama l'ultima fatica letteraria del noto giornalista Mediaset Remo Croci. Le numerose cronache di fatti di nera e giudiziaria raccontate negli anni nel nostro paese ha ispirato diverse narrazioni, senza mai però far riferimento a casi specifici di giudiziaria per espressa volontà dell'autore. Lo scrittore affida al fiuto investigativo di Lampo, un maestro elementare in pensione, il compito di sbrogliare la matassa di alcuni omicidi. Si parte da San Benedetto del Tronto, terra del giornalista, e si va a finire nel Salento, dove il maresciallo dei carabinieri Peluso digerisce poco l'intrusione nelle indagini della mente di Lampo che risolve alcuni delitti proprio dalla professione giornalistica. Croci tra una narrazione incisiva, senza giri di parole, tipica del noir. Sicuramente l'esperienza da giornalista ha un ruolo importante poi in quello dello scrittore, dove c'è un po' di vita vissuta. Femmina è un po' l'espressione finale di questa trilogia, iniziata tre anni fa, e conclusa proprio qui a Mandura, perché lo scorso anno questo libro l'ho completato proprio qui, in questo albergo di Manduria, nelle notti in cui ero per seguire un fatto di cronaca, quella dell'operazione Orfanelli, e insomma avevo queste storie da raccontare, e visto che i protagonisti, per una sorta di destino incrociato, erano arrivati nel Salento, insomma ho unito questa situazione. Il giornalista deve attenersi comunque alla realtà dei fatti, agli atti giudiziari, dove segue un processo, e mentre lo scrittore ha questa licenza di unire, come è il mio caso, quella di raccontare una storia realmente accaduta, ma poi di poterla romanzare. Qui quindi nasce un po' la fantasia dell'uomo di strada. Possiamo chiederle se ne approfitterà anche per concedersi qualche giorno di vacanza, visto che in Puglia, terra regina del turismo, nonostante i problemi di quest'anno. Sì, guarda, io ho un po' anticipato quelle che sono state un po' le recenti scelte dei turisti italiani. Insomma, io vengo qui nel Salento da lontano 1996, unendo ovviamente il lavoro alla vacanza, e anche questa volta l'ho riconfermata, quindi fra Manduri a Salento. Oggi sono stato a Torre Colimena, domani sarò a Porto Cesario, insomma sarà un tour veramente itinerante, perché il Salento merita di essere vissuto. Continua il programma del Magna Grecia Festival, organizzato dall'orchestra Ico della Magna Grecia con il sostegno del comune di Taranto, nei principali lì di cittadini. Il concerto al tramonto di ieri ha avuto come protagonista la musica di Vivaldi. Una serata ricca di emozioni con la violinista Xenia Milas. Si è svolto ieri il terzo appuntamento con il Magna Grecia Festival per la sezione concerti al tramonto in programma L'Amare Lido di Lama, sono state protagoniste le stagioni di Vivaldi. Protagonisti dell'evento nella suggestiva cornice della Mare, oltre a Xenia Milas, l'orchestra della Magna Grecia, diretta da Cosimo Prontera, che ha deliziato il pubblico con interventi alla Clavicembalo. Alla centro del programma, partito dalle quattro stagioni composte dal Prete Rosso, così come veniva definito Vivaldi, la proiezione di oltre un centinaio di scatti degli angoli e dei luoghi più affascinanti di Taranto, assicurati dall'Associazione del Circolo Fotografico e la Castello. Dieci gli eventi all'interno della Magna Grecia Festival, realizzato e promosso dalla stessa Ico della Magna Grecia, con la direzione del maestro Piero Romano, insieme con il Comune di Taranto. Il prossimo appuntamento del Festival è in programma mercoledì, 15 luglio, all'Arena della Villa Peripato, alle ore 21 con il Nino Rota Tribute, con Stefano Pietrodarchi al Bandoneon, Sara Intagliata Soprano, Antonio Mandrillo, tenore e direttore Maurizio Lomartire. L'ingresso è al costo di 5 euro. Domenica 19 luglio, invece, al Molo Sant'Eligio, con orari alle 19.45, 21.15, sarà la volta di note da Oscar, con direttore Giuseppe Salatino e ingresso con invito. E premo subito la pagina provinciale di Brindisi, raccontandovi l'incontro che il ministro Bellanova ha tenuto proprio con gli imprenditori vini-ticoli. Una visita istituzionale nei capisaldi della filiera agricola pugliese per portare una testimonianza di riconoscenza da parte del Governo per il lavoro svolto durante l'emergenza Covid. E' quanto ha sottolineato il ministro dell'Agricoltura, Teresa Bellanova, durante l'incontro con gli imprenditori viti-vinicoli presso le cantine Paolo Leo di Sandonaci. Quello che abbiamo fatto, proprio nel momento in cui ringraziamo questi imprenditori, questi lavoratori, che ci hanno permesso di avere momenti di normalità, in una fase in cui il coronavirus non permetteva nulla di normale nella nostra esistenza, ringraziandoli dicendo che misure stiamo portando avanti. Nell'ultimo provvedimento, 1 miliardo 150 milioni di euro destinati esclusivamente all'agricoltura, è il settore vitivinicole tra quei settori che più abbiamo preso in considerazione, perché è quello che più ha pagato il prezzo della chiusura dei ristoranti, degli alberghi, della catena, della distribuzione d'eccellenza. E allora abbiamo adottato una misura che dice che le imprese vitivinicole, le imprese della floricoltura e gli agriturismo, oltre che le imprese di produzione della birra artigianale, per sei mesi non pagheranno i contributi previdenziali e assistenziali per i propri dipendenti, perché li pagherà lo Stato. Oltre questo, 150 milioni di euro destinati alla distillazione e alla cosiddetta vendemmia verde per non intassare il mercato e non abbassare la qualità delle nostre produzioni. Il ministro poi ha ribadito che in Puglia Italia Viva non farà alcun accordo con il PD sino a quando il candidato alla presidenza della regione sarà Michele Emiliano. In questo momento ci sono due destre in campo, una rappresentata dal sovranismo e da un'idea di destra come quella della Meloni, l'altra è rappresentata da una persona, da Emiliano, che pensa di poter mettere insieme una coalizione dove si va da Casa Pound alla cosiddetta sinistra radicale. Sono due facce della stessa medaglia. Se si parte da un programma si trova poi la persona sulla quale costruire la sintesi migliore. Se si parte da Emiliano noi non ci siamo. Un ragazzo è fasanese di 21 anni, ha perso la vita domenica pomeriggio in un incendio stradale avvenuto proprio alle porte di Alberobello. Il giovane ha perso il controllo della propria moto finendo in un terreno. È finito fuoristrada con la sua moto e per lui non c'è stato nulla da fare. Un ragazzo di 21 anni, Stefano Labate, di Fasano, ha perso la vita nel tardo pomeriggio di domenica in un incidente stradale verificatosi sulla strada provinciale 113 che collega Alberobello a Monopoli in territorio di Martina Franca. Il giovane era in sella alla sua moto quando a circa 5 km da Alberobello dopo un tratto con doppie curve ha perso il controllo del mezzo ed è finito in un terreno agricolo. Sul posto sono state inviate un'ambulanza del 118 in automedica ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare la morte del ragazzo. Per i rilievi planimetrici sono intervenuti la polizia locale di Martina Franca sul cui territorio ricade il luogo dell'incidente la polizia locale di Alberobello per la viabilità e i carabinieri. Ignote le cause dell'incidente anche per la mancanza di testimoni oculari. Secondo una prima ricostruzione il ragazzo avrebbe perso il controllo della moto per una traiettoria sbagliata o per l'improvviso attraversamento della careggiata da parte di un animale. Labate lavorava come pizzaiolo in un locale a Coreggia. Aveva già raggiunto il posto di lavoro ma pare avesse finito le sigarette e si fosse recato presso un distributore di benzina poco distante per acquistarle. Sulla strada del ritorno verso la pizzeria il tragico incidente. E dai propri di questi minuti un comunicato stampa della prefettura di Brindisi con la quale si comunica l'adottata interdittiva antimafia nei confronti di un titolare di un'attività commerciale. Nel quadro dell'attività di vigilanza e controllo del territorio risposta anche in relazione alle direttive del signor Ministro dell'Interno rivolte ai prefetti di vigilare sulle possibili infiltrazioni mafiosi nell'economia legale. Il prefetto di Brindisi all'esito di una complessiva attività informativa ha adottato un provvedimento interdittivo antimafia nello specifico nei confronti di una ditta operante nel settore commerciale. L'attività di contrasto alle infiltrazioni nell'economia è effettuata con le verifiche antimafia previste dalle vigenti disposizioni che consentono al profetto di estendere gli accertamenti sia sulle imprese che stanno in rapporti con la pubblica amministrazione sia sul conto delle aziende che chiedono agli uffici pubblici il rilascio di autorizzazioni commerciali licenze o iscrizioni ad albi pubblici. Il provvedimento adottato risponde alle esigenze di rafforzare la tutela dell'economia legale. Tanto dice la nota. Passiamo alla prossima notizia Comitato per l'Ordine e la Sicurezza svolto in Prefettura Brindisi tra i temi affrontati numerosi furti avvenuti nei giorni scorsi proprio nella città di Fasano. Escalation di furti a Fasano al centro del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza che si è riunito presso la Prefettura di Brindisi e dal quale ha preso parte anche il primo cittadino fasanese Francesco Zaccaria predisposto uno specifico servizio di controllo che si andrà ad aggiungere a quello già presente nel territorio e coprirà in particolare le zone maggiormente colpite da questi numerosi furti avvenuti nei giorni scorsi che avevano allarmato la cittadinanza e avevano portato a una richiesta di un incontro che potesse essere dedicato a questo tema così come è avvenuto in Prefettura un lavoro di sinergia guidato dal Prefetto Umberto Guidato con la presenza e la collaborazione di tutte le forze dell'Ordine presenti all'incontro. Si mantiene un riservo legato ovviamente alla natura di queste operazioni ma è stato garantito appunto un'implementazione del servizio che verrà gestito ovviamente in maniera riservata. Un po' il punto sulla situazione abbiamo analizzato le denunce arrivate negli ultimi dieci giorni che hanno subito un aumento statistico rispetto alle settimane precedenti e quindi è stato giusto fare un po' l'analisi di quello che è accaduto e organizzare i servizi nelle prossime settimane in modo che ci sia un controllo più attento soprattutto in alcune zone del territorio che hanno mostrato appunto nelle ultime ore qualche criticità quindi ringrazio ovviamente il Prefetto per la grande disponibilità e tutte le forze di Polizia che sono intervenute per la grande collaborazione e anche per la tempestività con la quale appunto si è arrivati a questo incontro Tornano a protestare a Brindisi lavoratori di Revisud che attendono risposte sul futuro dell'azienda I lavoratori della Revisud di Brindisi tornano a protestare con un sit-in programmato per tutta la settimana sotto la Prefettura La preoccupazione riguarda il loro futuro e il futuro dell'azienda sul quale chiedono risposte certe in tempi rapidi con il sindacato Cobas che parla di mancato rispetto degli accordi sindacali per la rotazione del personale nelle parziale attività lavorative dell'azienda denunciando anche un forte ritardo nel pagamento della Cassa Integrazione legata all'emergenza Covid-19 che aggiunge un concreto problema economico a quello di prospettiva futura I lavoratori vogliono legittimamente le risposte alle loro domande sul loro futuro e sul futuro dell'azienda per cui anche se la Prefettura in passato recente è intervenuta anche per cercare di capire meglio la situazione dell'azienda ad oggi ancora nulla è cambiato rispetto anche all'intervento che aveva fatto la Prefettura per cui i lavoratori hanno bisogno di avere risposte certe hanno bisogno di avere risposte immediate perché non possono più rimanere in queste condizioni atteso che sono ancora in attesa di ricevere i soldi della Cassa Integrazione Covid-19 per un colposo ritardo dell'azienda un'azienda importante un'azienda storica che ha costituito un bel pezzetto di economia brindisina stiamo parlando di un'azienda che ha al momento quasi una settantina di lavoratori e questi settanti lavoratori potrebbero essere aggiunti ad altri decine decine centinaia di lavoratori che oggi a brindisi stanno soffrendo e quindi noi in questo territorio anche con la pertenza Revisud che cercheremo di prenderla per tempo non possiamo più permetterci distrazioni e non lasciare nulla al caso problemi nel sistema di accoglienza portale a brindisi ad intervenire il consigliere Oggiano con il presidente dell'autorità portuale patron Ghiffi che chiede lo sblocco immediato delle opere un tavolo di concertazione immediato ed operativo intorno al quale vi siano gli enti preposti e gli operatori portuali e questa la richiesta del consigliere Massimiliano Oggiano dopo la riapertura del traffico commercio e passeggeri che ha evidenziato vecchi problemi al sistema di accoglienza e attesa ai quali si aggiunge la necessaria sicurezza in questo periodo di emergenza legato al Covid-19 Quel poco di traffico che è rimasto all'interno delle attività portuali non si riesce a gestirlo con criterio ma soprattutto con servizi degni di nota mentre gli altri porti corrono si infrastrutturano fanno centri di accoglienza per passeggeri per operatori Brindisi non riesce ancora a dare servizi degni di nota e soprattutto uno straccio di centro di accoglienza per i passeggeri come per esempio quelli da e per l'Albania Su questo tema è intervenuto anche il presidente dell'autorità portuale Ugo Patroni Griffi che ha chiesto lo sblocco delle opere previste per l'area portuale concordando per una cabina di regia con il comune di Brindisi Troppe opere portuali importanti nevralgi che sono bloccate o rallentate io ritengo che ci siano le condizioni per sbloccare in meno di 24 ore tutte le opere strategiche per il porto di Brindisi quindi mi dichiaro disponibile a incontrare l'amministrazione comunale mi piacerebbe un confronto ampio per evitare che nel futuro ci possano essere delle incomprensioni quindi mi piacerebbe incontrare l'amministrazione comunale e ovviamente i consiglieri comunali o quantomeno la commissione urbanistica e adesso chiudiamo insieme la pagina di Brindisi e andiamo in provincia di Lecce e dal Salento partiamo da Galato nel corso del pomeriggio un vasto incendio ha bruciato molti ettari di macchia mediterranea sgomberate delle abitazioni nelle vicinanze e i lidi sono stati evacuati le operazioni sono ancora in corso pomeriggio di fuoco e fiamme un vasto incendio si è sviluppato nel corso delle ultime ore tra Gallipoli e San Nicola esattamente nella zona della montagna spaccata sulla rupe di San Mauro a poca distanza da Lido Conchiglie la grande coltre di fumo nero e le lingue di fuoco hanno messo in pericolo anche alcune abitazioni che sono state fatte immediatamente sgomberare in via precauzionale oltre ai lidi della zona che sono stati liberati dai bagnanti che dalle acque azzurre dell'Oionio assistevano allo spettacolo delle fiamme che si saranno diffuse già nel corso della tarda mattinata sul posto prontamente sono intervenuti i vigili del fuoco e del distancamento locale coadiuvati dalle alte squadre del comando provinciale e dal personale della protezione civile a causa del forte vento di maestrale le operazioni sono state complicate e hanno alimentato anche le fiamme tant'è che il fuoco mi lancia ancora tutta la reggia sino al quartiere latino dalla mezza terme sono giunti per dar manforte alle operazioni due canaderri i mezzieri hanno effettuato numerosi lanci di acqua per bloccare l'effusione delle fiamme e circoscrivere l'incendio non si conoscono ancora le cause di questo nuovo rogo ma non si esclude che ancora una volta si tratti di un incendio di origine idrosa le operazioni da parte le forze dell'ordine sono ancora in corso così come gli interventi dei vigili del fuoco che andranno avanti per tutta la notte è tempo di regionale sulle liste tante sono le indiscrezioni sia sui candidati che sugli esclusi segreteria al lavoro per la compilazione delle liste e la ricerca spasmodica dei candidati un lavoro bipartisan che non risparmia né destra né sinistra passando per i 5 stelle al lavoro tutti da consiglieri militanti e uomini del cerchio magico le liste sono scritte e riscritte con candidati che vengono spostati da una lista all'altra e quelli che dialogano con le diverse coalizioni poche le candidature ufficiali moltissime le indiscrezioni dell'inoci paola mita de giorgi casiglia da fiore metano questi nomi che hanno già avviato ufficialmente la propria corsa specificando coalizione e lista e poi ci sono tutti coloro che secondo i vertici sono candidati ma non hanno ancora confermato ufficialmente lino guido pai de mazzotta antonio bucoliero antonio barba salvatore de cutro fabrizio marra paolo pagliaro uomini di destra e sinistra pronti a correre ma che attendono l'ufficialità poi ci sono i grandi esclusi tipo il consigliere andrea guido e roberto giordano anguilla che avrebbero dovuto cedere il passo a michele giordano guido consigliere amato e stimato avrebbe dovuto subire il veto del duo congedo per rone che a fronte di una sua candidatura avrebbero perso i voti dell'ex assessore all'ambiente elemento destabilizzante all'interno del partito sarebbe stato definito guido da chi ha puntato i piedi per metterlo fuori dalla lista stessa storia per antonio raone lasciato fuori da forza italia dialogante confitto per una candidatura nelle liste del presidente ma pronto anche a candidarsi con emiliano intanto raone ha già avviato la propria campagna elettorale come a dire l'importante è conquistare la poltrona regionale a prescindere dai programmi e l'identità politica indiscrezioni definiscono ondiva anche Federica De Benedetto la quale scrive comunicati stampa come cambiamo dialogherebbe con forza italia ma si sarebbe incontrata anche confitto per un posto blindato nella lista di Fratelli d'Italia in abbinata con Antonio Gabellone laddove dovesse passare la doppia preferenza insomma una competizione elettorale tutta da scrivere dove alle volte forze l'ideologia sembra proprio secondaria rispetto alla volontà di essere eletti e continuiamo a parlare di regionali la senatrice Poli Bortone a lanciare il proprio candidato alla regione e smentisce in esclusiva ai nostri microfoni le voci che vedrebbero la figlia Annalisa candidata in una lista di Emiliano mentre il candidato presidente del centrodestra Raffaele Fitto incarta il sostegno del nuovo partito sociale italiano che sceglie di stare dalla parte dell'europarlamentare magliese il movimento sociale fiamma tricolore non solo annuncia che non ci sarà alcun patto con Fitto ma indica nome e cognome del proprio candidato governatore si tratta di Pierfrancesco Bruni intellettuale pugliese candidato al Nobel per la letteratura nel 2016 e ci pensa la senatrice Adriana Polibortone a dissipare le nuvole e mettere a tacere anche alcune indiscrezioni senatrice a tempo di regionali voi parteciperete a questa competizione con un vostro candidato tra l'altro una personalità eccellente sì veramente una personalità eccellente che ringraziamo per la disponibilità perché si tratta di un intellettuale che ama molto la cultura che è legatissimo al territorio che è un meridionalista convinto e quindi partecipiamo appunto con una persona degna veramente di grande rispetto intorno alla quale stiamo cercando di trovare le persone più giuste che lo accompagnino in questa vicenda elettorale indiscrezioni ci dicono di un suo riavvicinamento a Raffaele Fitto le nega queste indiscrezioni ma guardi il riavvicinamento se ne parliamo in termini amicali non c'è mai so di allontanamento se ne parliamo in termini politici beh io sono una persona di destra e sinceramente rispetto il percorso politico coerente che Raffaele ha sempre fatto al centro e non lo immagino come rappresentante della destra in Puglia le faccio una domanda scomoda alla quale ovviamente se vuole può anche non rispondere e indiscrezioni dicono di un suo familiare che starebbe valutando la candidatura a sostegno dell'uscente presidente Emiliano glielo dico chiaramente si riferisce a mia figlia ma sono sempre voci che tirano fuori in campagna elettorale mia figlia è una persona coerentemente di destra e non farebbe mai una scelta differente da quella e torniamo a Lecce dove il Parco Coni è partito il progetto di restyling dopo il lockdown in cui il Parco Coni a Lecce è rimasto chiuso per tanto tempo ora si pensa alla riapertura ed un upgrade che possa permettere alla struttura di essere ancora più a disposizione dei cittadini e degli sportivi leccesi nel corso di questi giorni sono stati installati oltre 130 rampioni con un impianto illuminazione di ultima generazione a LED che potrà garantire un efficientamento energetico e potrà permettere anche un innalzamento dei livelli di sicurezza il parco infatti è aperto dalla mattina le ore 7.30 fino alle 23 obiettivo è quello di rendere questo spazio della città una vera e propria cittadella dello sport a servizio di tutti i leccesi dall'amministrazione comunale garantiscono che presto saranno attivi anche gli spogliatoi uno per genere dal quale si potrà accedere attraverso un abbonamento come in una vera e propria palestra ci saranno i tornelli e gli armadietti dove si potranno lasciare borse e borsone inoltre nei prossimi giorni verrà pubblicato un bando di gara per l'affidamento del bar all'interno del parco per offrire qualche snack proteico ed energy drink a chi pratica sport in quell'area serviranno invece risorse extra per la sistemazione del campo da tennis e quello da calcio già esistenti nell'ex area militare ma che da troppo e tanto tempo sono in totale stato di abbandono oltre al centro di via potenza si procede perciò al recupero e allo sviluppo del parco coni per una città che guarda sempre più al mondo dello sport tutto pronto per i comuni per cettori del reddito di cittadinanza espletteranno servizi primari per gli enti sembrerebbe finito il tempo del reddito di cittadinanza preso stando seduti sul divano adesso tutti coloro che percepiranno l'aiuto dello Stato dovranno lavorare per i comuni e a Lecce Città i percettori verranno individuati tra circa 3.000 beneficiali di reddito di cittadinanza impegnati nei 6 progetti già ridatti nei mesi scorsi dall'amministrazione comunale del sindaco Carlo Salvemini e dall'ambito sociale di zona 6 macro progetti pronti con iniziative che spazieranno tra i diversi ambiti di intervento dal sostegno alle persone in difficoltà all'accompagnamento al disbrigo delle pratiche piccole commissioni all'attività di manutenzione ordinaria nei quartieri ma anche promozione e diffusione dei servizi offerti dalle biblioteche comunali e all'attivazione e promozione di iniziative e servizi in programma ancora interventi negli istituti scolastici piccole manutenzioni cura del verde dei giochi e degli spazi comuni a completare i PUC inoltre saranno alcune iniziative di vigilanza ambientale per prevenire l'abbandono dei rifiuti e curare i quartieri sono state previste inoltre attività di supporto e affiancamento per la gestione degli uffici archivio digitalizzazione anche se su questo fronte le incognite non mancano attualmente il 50% degli impiegati comunali infatti è ancora smart working a seguito dell'emergenza sanitaria covid e in questo contesto consentire l'accesso agli uffici a soggetti esterni appare piuttosto difficile anche se non del tutto improbabile insomma tutto da definire ed era questa la nostra ultima notizia grazie per averci seguito vediamo appuntamento sempre domani mattina alle 7 per la nostra rassegna e io vi auguro una buona serata con i programmi di canale 85 grazie a tutti